ecco il mio ultimo quadro che ho denominato la primavera del colibri guardate com'è stupendo l'ho realizzato a punto cruce i bordi sono ben cuciti non so se si vede bene però cerco di tirarlo su forse si vede da qua ecco adesso dove si vede bene quindi non si sfilacciano i bordi non si sfilacciano è veramente uno spettacolo e questo quadro è in vendita per chi fosse interessato lascio il link per potermi contattare un ultimo inquadratore vi ringrazio per la visione ciao 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 ciao